ciao a tutti amici dark roxiani senza perdere tempo vado subito a finire il giro della missione evento livello maestro l'amore è un altro cosmo dunque ero arrivato all'ultimo capitolo è il caso di completarlo ma prima come al solito vado a salutare my trap phone e avenger 08 1 siete minici continuate a seguirmi così e andiamoci a fare due risate nel video di oggi oddio che è successo ok ecco qui non c'è due senza te ti innamorerai allora qui stavo provando come vedete stavo provando fantasma che dai video che si vedono su youtube è qualcosa di pudente spero di risvegliarla però non è il team che ho usato l'ultima volta e quindi a questo giro cercherò di mettere il team che avevo l'altra volta che non mi ricordo però mi sembrano questi dunque chi altro mi porto raga chi altri mi porto ma che altro fatto un team da paura prima stavo giocando c'era medusa che mi era arrivata più di 7200 di rating ci stava quei poi ci c'era non mi ricordo sinergia terribile però facciamo prima vederla qui ah sì ecco c'era lui sdreccianera che ora non me lo ritrovo questa ma che lo sto usando e no non lo sto usando eccolo qui e poi c'era lui non ce l'ho wolverine sì allora ho messo qualcosa a lei forse parapimpuppa no wolverine me lo ricordo quindi lo vado a mettere forse era qualcuno in sinergia sì era capo se non mi mi ricordo ma andiamo a vedere non era capo era molto più alto mi sa che c'era un altro 5 stelle chi era vediamo un po' era ciclope forse non ne so sicuro ma parete no mamma che ciclope però mi arriva a 7 e 4 quindi qualcosa di ancora più devastante non era ciclope però chi era forse era Hulk non era Hulk perché arrivava a 7224 quindi chi era chi era? vuoi vedere che era Hulk? no non era Hulk anghingo sta babbuina chi lato non mi ricordo chi era fammi riveder la sfera ah forse era Occhio di Falco? andiamo un po' e mi sa che era Occhio di Falco a 7226 però siccome che ho visto ciclope io ce lo metto guardate che team raga bestiale 7400 me lo usa e io beh che sto facendo un livello maestro quindi qui siamo sono anche troppo potenziale ma che ci frega corciù con testa andiamo avanti va allora vediamo un po' ah ma qui c'è il mio peggior nemico quindi direi di levarmelo subito dalle scatole e naturalmente direi di farlo subito con Medusa zitti concentrare fatemi concentrare stupido ah io lo odio dai dai che tanto non c'è trippa non c'è gun dai spara me sto laser bravo così ti voglio ok ho capito te ne devo da solo 4 e fuori è inutile venire ah no l'ha presa 2 pizze vabbè la prossima volta ti do la mossa speciale 2 che mi sa che è meglio 1 2 3 a posto dai scarica come prima dai angolo grazie 1 2 3 e via ah stavolta ti sei fatto solo 2 schiaffi cattivo eew posa le mani e va bene e va bene spara spara non ti temo mamma mia un pochino si č ok adesso vieni che ti do la 2 viene da papà vieni vieni che ti do la 2 2 l'ho preso tutte complimenti ti devo fare 3 melo mad creativo ceste ci racconti il mangrok io odio grande gava ah è morto ok moddock è andato proseguiamo proseguiamo oh c'è un wolverine qui wolverine ok allora wolverine rigenera una cifra quindi io vado ancora con medusa vado ancora con medusa cercando di sfruttare al meglio la mossa speciale 3 magari la risveglio medusa diventa devastante già lo è ma non non mi ha funzionato il dito va l'ordo sta sveglia e mori va ok cioè ma do' sapere se sta esaurito poi raga sbaglio o c'ha la forma in cuore sta mappa quelli della gabba ma sono terribili qui là mi porto wake questo giro mi porto wake e se non gli faccio caricare l'energia così non gli faccio caricare l'energia a ciclope e lo butto giù così come niente guardate che cretino oddio che scemo oddio che stava via facciamo gli altri due corpi e basta così cioè gli ho levato pochissima vita guardiamolo mai oh cazzo sono 1.7 che hanno fatto il plano di polenzia infami dai fammela due è rimasto sbalordito mi ho schivato pure io non me l'aspettavo perché di solito la becco cos'è non dà energetica dai svieni no non svieni infatti adesso mi ha preso pure adesso si però stai calmo che deve essere sempre domenico domenica è sempre domenica oh scuola orco due orco due orco due mori ok va bene così ora andiamo da domino che mi distruggerà ah lì c'è sta pure Emma Frost e mi farà danni quella mi farà danni quindi direi sì stordimento subbracchiante oddio 26 attaccante viene stordito per 3 secondi a meno che non esegua un attacco speciale al termine del termine durante questo stordimento il reddito armato è raddoppiato tuono rumbante il danno di attacco speciale di questo nemico aumenta fatto per cambiare le spalle al bur ogni volta che vittima di un debuff e danni per me il difensore ottiene 300% in più di potere per tutta la durata quindi Wolverine vai via gli emette sanguinamento diventa mostruosa tutto il tempo vediamo se con frescia nera invece andando avanti di nostra speciale due porco giuda gliela butto giù oh la fa io la odio ok oh porca sono andato in stordimento io ma non era lei vabbè io mi faccio fa la tre nooo ho buttato al vento la partita vincente mi sono fatto piatta alla fretta quindi ora per non fare la stessa cagata andiamo De Medusa e vediamo un attimo di rimanere più concentrati ragazzi eh no comunque che è successo? ecco non ho capito che è successo comunque è il succo del successo è che sono morto andiamo avanti con Quake vediamo se forse non è una bella cosa non accumulare energia perché sennò dopo va disturbimento un'altra volta però intanto io non mi arrivo non mi arrivo ammazza quanto scrive ecco la vengela aiuta io vengela grande ciore che grande oh tagli un po' vabbè ognada male però cheacchio di porcun ok vado di ciclope 5 stelle vediamo se la riesco a putare giù ma non mi funziona sto cazzo scusate sto cavolo di telefono nuovo nuovo cambio torna a quello vecchio onda energetica ce l'ho fatto vediamo un po' le ricompense no non sono le ricompense finali infatti il prossimo giro c'è la ricompensona e andiamo subito a scoprire insieme che cosa prenderò sono tutto emozionato sto team ma chi c'è quando nasce un amore beh qui mi sa che è il caso di portare qualcuno che blocca la rigenerazione chi è che blocca la rigenerazione raga non mi ricordo mai vabbè mi porto lui che se non gliela blocca comunque si gliela avverte poi mi porto nict e poi mi porto ultron immunassanguinamento e poi mi porto visione che brucia potere e poi mi porto boh non so più non so più si mortano va che lui rigenera e via subito buttiamoci in mezzo alla mischia andiamo da Thor Thor usiamo il bonus vantaggio il bonus classe quindi vanno con dottor futuristico contro mu no che mu cosmico ok rigenerazione lo spirito oscuro bello oh mamma mia è un malaspettante normale che stanno imparati lui ne applico un'arto davvero no ho messo il pari che cretino oddio però sto a 638 gli ha fatto male uguale eh sì perché quando è paro aumenta a me la forza la potenza quando è disparo diminuiscono a lui la potenzialità non mi ricordo i termini tex ragazzi andiamo a vedere le regole di questo gioco eh ok sì continuo a usare dottor voodoo così mi si ricarica adesso verso un po' di vita sber bomba ok dai scarica la 2 che c'ho da fare posso stare qui fino a domani dai ecco ecco lo sapevo io ho detto scaricala 2 che fai mi vieni scaricala 2 per Diana non sono Diana sono Fenice per Fenice ok oh staccate vieni Fenice vieni e stem ah righi c'ho un ciuffo in mezzo alla testa vanno a fare i capelli fino a settimana ok c'è un altro cuore qui che bello che sta lì un regalo che è che è e andiamo di dottor voodoo ormai è speso e via ma come sapevo che erano tutti cosmici brava lei che sta lì ferma a guardarmi ma sta affascinata dalla mia bellezza dai tira fuori lo spadone fammi vedere quanto ce l'hai grossa mamma mia enorme non la voglio è attaccato veleno spirituale mo viene attaccavo un altro paro ho visto che è buono uno primo uno disparo e poi uno paro tira fuori lo spadone tira fuori lo spadone tira fuori lo spadone eeeh eeeh tira fuori lo spadone eccola e no la tratta di sparo quando voglio far disparo è sceparo quando voglio far fare è il che di sparo dai tira fuori lo spadone nè no comunque era due ah due volte di spadone e vai paro il partito su ammazza quanta vita c'hai oh eh dai che so curioso di vedere quel regalino ligero bah eeeh fatemi vedere sarai mio non lo so dipende da quanto me dai e calla oh qui c'è un colosso e colosso che è successo sono tutto tuo orsacchiotto rifiuto mercenario solitario mercenario solitario dai no orsacchiotto si si è perché sto innamorato sennò col cavolo che mettevo orsacchiotto allora ma sono indeciso comunque qui mi sa che porto 1.2 di 4 porto 1.2 di 4 questo sta già 1.7 è più o meno uno dei due mutano void 5 stelle già più vita ok partito in timer che è quello di prima no adesso in realtà mi ammiglio dai 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 bravo 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 dai però colosso non ti puoi mettere lì all'angolo aspetta che uno devi avvise devi reagire alla vita se la vita ti metto schiaffi non puoi metterti lì all'angolo devi reagire perché ti metti all'angolo vieni dai ti faccio strago ti faccio vedere com'è la vita vieni vieni da me scarica la tua mossa speciale 2 bravo vedo che hai capito e beccate sta onda energetica d'arbetto eccolo di nuovo onda energetica ad abunfete mori ok andiamo all'otto finale sono proprio curioso di vedere come si comporta il mio void contro debbu che qui debbu dovrebbe rigenerare la palletta non oso immaginare a livello epico vediamo un attimo qui indomabile ogni volta che l'abilità di guarigione difeso dovrebbe essere invertita esso subisce soltanto un blocco guarigione lo sapevo io che c'era a sola dietro ogni sette secondi il prossimo buff attivato l'attaccante viene immediatamente annullato ogni volta che questo effetto si attiva il difensore si rigenera 5% su soltanto ma lo sapevo che c'era a frega da te immune a sanguinamento vabbè io mo ci vado con void e vediamo che esce fuori da quello che ho capito void sarà inutile però la sta andando bene basta che mi fa ecco questi scatti che mi sono rimasti addio che stava qui è più di particolare incinerazione che però è invertita che sta morendo funziona void non delude void number one che mitico void ok evidentemente non ci ho capito un cacchio su quello che ho letto scherzioni di cristallone e cristallo eroe 4 stelle lo andiamo subito ad aprire cari amici se no è il video di oggi tanto voglio andare a mettere subito il mio titolo nuovo orsacchio bellissimo attiviamo orsacchio ok un po di contegno tar crocs perfetto questo lo finirò domani poi prossimo sarà questo qui addestramento base lo spancherò sicuramente però l'importante è provarci e devo anche finire questa 100% me devo dare una mossa mancano solo 15 giorni oddio sì che gli avaccio riga tranquilli proprio andiamo all'alleanza e c'è gente che sta bene da core e da panza aiutiamo sto sempre aiutare sta alleanza però dico io rega non è che ogni tanto aiutatene pure voi a me ma che si fa così ok finito quasi mamma mia quanto ci metta a caricare tutte le porte ok cristalli cristalli eccolo qui cristallo eroe 4 stelle che poi sì vabbè questo lo apriamo subito riga sto accumulando i premium come vedete vado ad aprire anche il cristallo d'amore ci sta eh lo apriamo vado a vedere un attimo questo cristallo ecco si sto accumulando anche questi come vedete fare un'apertura bestiale tra qualche giorno come vedete ci ho arti due cristalli eroe 4 stelle li aprirò a sorpresa in qualche mio video però oggi voglio andare ad aprire almeno questo 4 stelle e quell'altro dell'amore facciamo girare mi aiuto l'occhio a sto giro oddio mamma vediamo chi uscirà pensa se becco fantasma come godo pensa se becco uomo ghiaccio come godo come godo pensa se becco domino come godo sto sempre a godo perché sei un mandrillo mamma mia basta vediamo un po' sbrillino i tamburi si bionda suremo perché che t'ha fatto ah raga c'è tipo 4 anni fa che volevo a tutti i costi nightcrawl adesso l'ho preso 5 stelle ho rispegliato 4 stelle sto a piacere solo nightcrawl ma non ho visto a che livello mi è arrivato però mi pare che una volta sola non mi ricordo schiodi potenziali i campioni un attimo a vedere i nightcrawl 4 stelle voi vede c'ho 5 stelle già no ma ha dato pure 4 la fantasia questo estrattore random della gabam infro eh si l'ho risvegliato una volta vabbè o porteremo su nightcrawl comunque è un eroe da portare su fa sempre bene avercelo bello con il riserva c'è una squadra di nightcrawl allora cristallo d'amore vediamo la scuraggine Tarkroxiana beckerò sicuramente un 2 stelle vediamo un po' vediamo un po' chi uscirà a questo giro ma 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 magari ho un 4 stelle vediamo chi esce oddio 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 ma non ci spero no non dov'essi oddio ma non fermate fermate oddio mamma mia che ansia oddio oddio no vabbè sta chiamando ecco lo sapevo io lo sapevo Daredevil 3 stelle mega schifo massimo livello massimo livello raggiunto però attenzione mi ha dato un cristallo del 3 mannaic che andiamo subito ad aprire e chiudite ste offerte del cavolo porca miseria allora allora dove è qua cristallone abilità chiave massima vediamo su uscirà pugno d'acciaio immortale lo apriamo di botto perché tanto non esce c'è infatti 55 schegge di cristallo 4 stelle allora raga io vi do appuntamento al prossimo video che sarà spero domani io vi saluto calorosamente come faccio sempre vi do un abbraccione e vi auguro un buon proseguimento di che? bella a tutti raga ci sentiamo ci vedemo e se non se vedemo se beccano io non voglio qualcosa fa ciao ragazzi